Sai che ho avuto la fortuna di lavorare con Jean-Claude Carrière e lui mi ha insegnato una cosa un premio, non si domanda, non si rifiuta e dunque lo prendo con un gran piacere perché viene dall'Italia io sono sempre stato accogliato con molto di gentilezza in Italia soprattutto conosco abbastanza bene Roma, è un premio da chi viene da Roma e sono contento Perché i festival sono la più grande pubblicità per il cinema perché i film si vedono in sale e di comunicare il piacere di essere in sale